Perde il controllo dell'auto che sta guidando, che finisce la corso a ruote all'aria, rimanendo incastrata tra una ringhiera di un'abitazione e gli alberi. Ferito l'autista, un trevigiano, il sinistro ieri sera in via Trieste a Casoni di Mussolente, i pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza la vettura, mentre il conducente era già stato preso in cura dal personale Suem per essere trasferito al San Bassiano. I pompieri hanno disincastrato l'auto e recuperato dal soccorso stradale.